Vieni, Divina Volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che ti ha raccordato di tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regine Immacolata, Celeste Madre mia, vengo tra le tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti che sospiri più ardenti, che mi ammetta a vivere nel Regno della Divina Volontà, Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi, perciò, Sovrana Regina, te mi affido finché guidi i miei passi, nel Regno del Volere Divino e stretto, la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio finché faccia vita perenne nella Divina Volontà, tu mi farai la mamma e tu a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal Regno Suo, perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 22, 8 settembre 1927 Dopo ciò stavo seguendo il Santo Volere nell'atto in cui il mio dolce Gesù si separò dalla sovrana regina per andare nel deserto e mentre compativo l'uno e l'altra pensavo tra me ma come potete separarsi la mia sovrana signora dal suo caro figlio per ben 40 giorni? Lei che lo amava tanto, come potete stare senza di lui? Sono io che non ho il suo amore e soffro tanto se per alcuni giorni mi pria di sé ma quanto potete essere il dolore della mamma mia? Ora, mentre ciò pensavo il mio adorato Gesù si è mosso nel mio interno e mi ha detto Figlia mia, tutti e due soffrimmo nel separarci. Ma il nostro dolore fu sofferto in modo divino, non umano e perciò non si disgiunse dalla felicità né dalla pace imperturbabile. Io partì felice al deserto e felice restò all'altezza della mia mamma celeste perché il dolore sofferto nel modo divino non ha virtù di adombrare minimamente la divina felicità che contiene mari di gioia e di pace interminabili. i dolori sofferti in modo divino sono come le goccioline d'acqua nell'immenso mare nel quale la forza delle onde ha virtù di cambiarle in felicità. il dolore sofferto in modo umano ha virtù di spezzare la vera felicità e di turbare la pace il divino mai molto più che la mia mamma regina possedeva il sole della mia volontà per grazia e io lo possedevo per natura sicché il sole restò in lei e restò in me ma i raggi non si separarono perché la luce è inseparabile perciò nella stessa luce lei restò in me e seguiva gli atti miei e Dio restò in lei come suo centro di vita quindi la separazione mentre fu vera fu apparente in sostanza eravamo fusi insieme ed inseparabili perché la luce della volontà divina metteva in comune gli atti nostri come se fossero uno solo e poi io andai nel deserto per richiamare quella stessa volontà mia divina che per 40 secoli le creature avevano disertato da mezzo a loro ed io per 40 giorni vogli starmene solo per riparare i 40 secoli di volontà umana in cui la mia non aveva posseduto il suo regno in mezzo all'umana famiglia e con la mia stessa volontà divina la vogli richiamare di nuovo in mezzo a loro per far sì che regnasse nel ritornare dal deserto la deposite nella mamma mia con tutti quegli atti di volontà divina che le creature avevano respinto e tenuto come in un deserto affinché fosse lei la fedele dipositaria la riparatrice del regno della mia volontà ecco lei che lo impetra solo la sovrana signora poteva possedere questo deposito così grande perché possedeva in se stessa la volontà divina in cui poteva contenere la stessa volontà disertata dalle creature come potevamo occuparci del nostro dolore di separarci per 40 giorni quando si trattava di reintegrare di richiamare la nostra divina volontà a regnare in mezzo alle creature nel nostro dolore eravamo più che felici perché volevamo mettere in salvo il regno del Fiat Supremo e la Celeste Regina stava aspettando con ansia il mio ritorno per ricevere il deposito del nuovo sole per contraccambiare col suo amore tutti i suoi atti che l'ingratitudine umana aveva respitto essa fece da vera mamma la mia divina volontà facendo insieme da vera madre alle creature impetrando per tutti la vita la felicità la gioia di possedere il regno dell'eterno Fiat bene parlo anzitutto agli amici che seguono la diretta e anche a quelli che magari vedranno il video su youtube come video del giorno ma dovranno fare attenzione alla playlist in cui viene collocato perché non è la playlist non sarà la playlist meditazione sulla divina volontà ma quella delle meditazioni mariane sulla divina volontà oggi è l'8 settembre già da abbastanza presto questa mattina sentivo abbastanza chiaro e distinto nel cuore chiamiamola respirazione non lo so se chiamarla così comunque il pensiero di dedicare la meditazione di oggi alla nostra leggine non sapevo quale brano scegliere dove andarla a trovare mi sono fidato della data 8 settembre 1927 oggi è la natività liturgica di Maria Santissima e il 27 è un numero molto mariano il 27 penso che tutti sappiano che è la data della festa della medaglia miracolosa dell'apparizione di Maria Santissima a Santa Caterina da Burea a Rudebach ed è anche la festa del primo grande innamorato di Maria dopo suo figlio Gesù che è San Giovanni Evangelista la cui festa ricorre il 27 dicembre e quindi ho pensato andiamo leggiamo questo brano e meditiamo questo brano vediamo cosa il Signore vuole oggi farci meditare sulla sua Santissima Madre Regina oggi è uno dei giorni più belli da quando è stato creato tutto quanto l'universo più bello di questo giorno è stato soltanto il Natale è il numero due però pur essendo il numero due cronologicamente è venuto prima perché la Madonna è nata prima di nostro Signore per cui dopo questi 4.000 anni 40 secoli ci fu un giorno in cui il pianeta Terra respirò conobbe la gioia conobbe un sussulto di felicità anche chi non lo sapeva sicuramente in qualche modo lo sentiva il giorno in cui nacque la Madonna fu fu giorno immenso negli scritti di Maria si legge che successe il finimondo quando Sant'Anna stava partorendo Maria uno scatenarsi un temporale un uragano una botta da paura e che al primo vagito di di quelle incantevole creature non ci sono parole per descrivere colei che oggi è nata non ci sono io credo che soltanto la Santissima Trinità avrebbe parole adatte per appellare per descrivere la Divina Maria io non mi sento mai soddisfatto comunque la chiami sia che la chiamo la Madonna sia che la chiamo la Divina Maria sia che la chiamo la Regina del Cielo la posso chiamare in qualunque modo la Santissima Vergine non mi sento mai soddisfatto perché è come se stessi dicendo una cosa bellissima con termini assolutamente e così certamente è inadeguati non c'è lingua che può cantare e descrivere colei che oggi è nata non c'è e in queste circostanze in quest'8 settembre del 27 è nostro Signore vuole far meditare insomma tutti noi sulla base delle considerazioni di Luisa su alcune delle tante cose che insieme sempre insieme erano Gesù e Maria fecero quando erano sulla terra Luisa che come ben sappiamo smaniava spatimava se solo fosse stata qualche giorno senza Gesù si chiede ma come ha fatto la Madonna a non morire di crepa cuore quando Gesù è stato 40 giorni nel deserto perché 40 giorni è una quaresima non finisce mai cioè finisce ma è lunga Gesù come ha fatto non morire di dolore e Gesù dice una grande cosa una grande cosa che vale per tutti e vale anche per i nostri magari più piccoli dolori rispetto a questi tante volte durante le meditazioni ho avuto modo di dire non so se dobbiamo dire ringraziamo Dio oppure poveri noi che non ci rendiamo conto ma immaginarsi cosa significhi rimanere privi di Gesù o di Maria per chi li ha avuti per chi li ha conosciuti ecco non so se dire beato chi non se lo può immaginare perché non sa cosa si perde oppure beato chi se lo può immaginare perché sicuramente soffre sa quello che si perde ma appunto ha avuto anche l'esperienza di poterlo vedere e qui però Gesù dice una grande cosa il tempo in cui lui è stato nel deserto oltre a dare quella magnifica lettura che adesso poi vedremo che già abbiamo accennato stupenda dice anche una cosa molto importante il segreto è soffrire ogni dolore compreso questo io ripeto per chi ha conosciuto il sopranaturale questo lo dicono tutti i maestri di spirito tutti non c'è dolore più grande cioè se tu hai uno che ha visto che è stato a contatto con Gesù e la Madonna e gli dici tipo ma preferisci che Gesù sparisce o la Madonna sparisce oppure cominci a pensare tutti i mali possibili immaginati che ti viene un tumore che ti viene la SLA che ti viene il coronavirus oggi se ti viene il coronavirus sembra che è finita la fine del mondo che ti muore un figlio d'accordo che ti muore la persona più cara che rimani sull'astrico che va a finire in mezzo a una strada che ne so che rimani completamente solo calunniato da tutti ricoperto di obbrobri di infamie di sonore cominci a pensare alle cose peggiori possibili immaginabili una persona che ha avuto un'esperienza autentica del cielo non ci pensa neanche mezzo secondo dice ma per carità di Dio ma non esiste proprio ma io me ne vado in giro pure nudo pure se che capito con uno straccio addosso come era San Francesco senza averci nient'altro senza averci una lira in tasca in un posto per dormire un mantello per coprirmi non me ne importa niente questo fatto è stato testimoniato nel corso della storia della chiesa nel corso della storia bellissima che dobbiamo conoscerla della geografia e della mistica da santi che hanno vissuto per anni 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 gli dico anni solo di Eucaristia solo con l'ostia e in mezzo a dolori atroci a malattie intervallate quando non c'era una malattia dell'esperienza della passione si pensi soltanto per fare due nomi abbastanza vicini a noi ma ce ne sono tanti altri adesso farò sicuramente ingiuri a altri che abbiamo vissuto questi sono i primi che mi ricordo sono la beata non so se già santa Alessandrina Maria da Costa un'anima veramente meravigliosa vissuta nello scorso secolo proprio uno spettacolo di cielo e Teresa Neumann grande mistica tedesca del secolo scorso quindi questo per dire che la Madonna c'è la corona della dolorata che raccomando a tutti ricordando che la Madonna a Chibeo ha chiesto a chi la ama il martedì e il venerdì di trovare il tempo oltre alla corona d'amore che è il rosario che non si tocca di recitare la corona della dolorata per la conversione dei peccatori nella corona della dolorata si contemplano i sette dolori di Maria per una settimana sicuramente faremo un'altra bella meditazione sulla dolorata però per esempio il dolore di che di questi 40 giorni non c'è perché i sette dolori di Maria sono non la descrizione di tutti i dolori che ha avuto ma il numero sette è il numero di perfezione quindi attraverso la scelta di questi sette dolori sono diciamo così inclusi tutti gli infiniti dolori se uno avesse voluto fare la corona della dolorata facciamo così cominciava oggi se dovesse calcolare tutti quanti i dolori di Maria probabilmente finirebbe il giorno in cui more quindi era impossibile fare una corona della dolorata come dire comprensivo di tutti quanti i dolori di Maria quindi è un gesto significativo ma simbolico quindi questo dolore per entrambi ma fu un dolore che ripeto ci possiamo entrare nella fede immenso che più grande non se ne potrebbe concepire e che cosa dice però Gesù soffrimmo nel separarci ma il nostro dolore fu sofferto in modo divino e attenzione non umano e perciò non si disgiunse dalla felicità né dalla pace imperturbabile queste questa questa coppia felicità e pace a cui poi si aggiunge un'altra cosa la nomina più sotto mare di gioie e pace interminabili felicità pace e gioia sono proprio le caratteristiche ma nemmeno gli attributi perché gli attributi è una cosa che potrebbe cioè le disposizioni stabili e permanenti se si vive nella divina volontà può succedere qualunque cosa ma ma veramente anche delle cose orribili che danno dolori profondissimi ma e questo bisogna ridurlo per cioè la mente io capisco che l'intelligenza dell'uomo comune di quello che si chiama generalmente l'uomo della strada non le capisce queste cose qua non ci arriva San Paolo dice l'uomo carnale l'uomo psichico non comprende le cose dello spirito sono follia per lui quindi la persona dice ma come è possibile che la persona sta soffrendo in maniera inumana e è felice e sta nella pace e sta nella gioia o è l'uno o è l'altro è qui è qui casca l'asino non è così perché è l'uno e l'altro non o l'altro tutti i dolori sofferti nella divina volontà e per divina volontà quindi in conseguenza del fatto che si sta facendo la volontà divina sono tutti dolori santificabili e tutti dolori che se fatti proprio e offerti con gioia al Signore con generosità non ti toccano il patrimonio e la condizione di uomo o di donna felice in pace e contenente mari di gioia certo deve trattarsi di dolori sofferti per adempiere la divina volontà o nella divina volontà o a causa della divina volontà Gesù lo spiega io dovevo andarci nel deserto io dovevo andare nel deserto sai fare cosa sì dovevo andarmi a fare 40 giorni il numero 40 così importante nella saga scrittura il numero uno dei numeri più sacri che esista per riparare 40 secoli la cronologia biblica attenzione non dimentichiamola mai io personalmente idea mia personalissima non mi importa niente di quello che dicono scienziati cose in piccia e brogli proprio non mi interessa ho scelto di non interessarmene facciamo così io ritengo oltremodo attendibile la cronologia biblica degli iscritti di visa creazione 4000 avanti cristo di luogo universale 2000 avanti cristo nascita di Gesù anno zero primo combattimento escatologico 2000 i nostri tempi secondo combattimento escatologico molto presumibilmente 4000 cioè l'arco della storia umana che si snoda in 8000 anni tra l'altro numero significatissimo significativissimo perché 8 è il numero della risurrezione tra l'altro l'ottavo giorno le ottave che la chiesa celebra in ogni festa sarebbe spettacolare se così fosse insomma in 8000 anni di esseri umani che vengono creati ce ne stanno abbastanza sono tanti insomma sappiamo che gli angeli sono stati miliardi di miliardi ma noi attualmente nel mondo restano 7 7-8 miliardi di persone insomma quindi è abbastanza e abbiamo 6000 anni di storia che ci ha preceduto insomma e altri due che ne devono seguire quindi gli esseri umani cominciano ad essere tantini quelli da creati quindi perché sappiamo bene che la creazione degli esseri umani non è stata come quella degli angeli si snoda nel corso della storia ci sono ancora dei grandissimi uomini e donne dei grandi santi delle grandissime sante quelli che combatteranno l'ultimo combattimento scatologico saranno i più strepitosi di tutti daranno i punti a tutti quanti insomma no non sappiamo chi sono non sono ancora venuti al momento noi che siamo legati al 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 remo dell'istante che passa come gli schiavi che erano legati con catena alle gallere non sappiamo queste cose quindi 40 secoli di diserzione ho letto un sito proprio nei giorni scorsi ma penso che lo twitterò questo qui lo metterò su twitter un messaggio stupendo probabilmente dalla madonna di Anguera che parla dei suoi soldati in talare che amano e difendono la verità ho letto quel coso sono veramente quel messaggio sono veramente rimasto senza parole questo vocabolario militare che Gesù usa e che la madonna usa chi parla di creature che avevano disertato per 40 secoli la divina volontà disertori disertori hanno scelto di militare sotto altri bandiere e non sotto l'unica per la quale vale la pena fare qualunque cosa e spendere la vita e dare la vita ed è impressionante io in quei giorni me ne stetti solo la solitudine di Gesù nel deserto immagine dell'immensa solitudine dell'uomo quando è privo e orbato della divina volontà quanta gente nel mondo si sente negativamente sola ma quando una persona è in comunione con Dio è piena di Dio non si sente mai sola la solitudine tanto temuta dalle creature la solitudine fisica quindi il trovarsi materialmente fisicamente da soli da qualche parte in qualche luogo senza compagnia sensibile ma questa è una cosa che non è temuta dagli amici questa è una cosa che è cercata dagli amici di Dio non è temuta come una cosa negativa perché è solo la solitudine come dire dalle creature che ci consente di entrare in perfetto contatto per quanto possibile in questo mondo col creatore non possiamo stare contemporaneamente in maniera intensa con la creatura e col creatore o stiamo con l'uno o stiamo con l'altro è così questo eh amici miei certo che adesso stando con le creature facciamo la volontà di Dio chi è sposato chi ha i figli chi vive in un contesto sociale chi lavora per carità no quindi si capisca bene adesso non è che chi si sente questa meditazione vanno a fare tutti quanti gli eremiti no mi raccomando grano salis e testa sempre quando si capisca sempre il senso di certe considerazioni no però questo è Gesù che sta solo per riparare il dramma di chi si è sentito solo perché il peccatore chi si stacca da Dio vive quella condizione orribile di quella solitudine insopportabile si sente solo e la riparazione come noi ben sappiamo come si riparano i peccati devi mettere nella stessa condizione di soffrire il bene uguale e contrario rispetto a quello causato dal peccato l'uomo si è trovato in un deserto quindi in un deserto e solo per aver respinto la Dina Volontà e Gesù deve andare nel deserto stare 40 giorni soli solo torna dal deserto e che cosa fa? dopo aver richiamato perché riparando richiama quindi terminata la riparazione da un punto di vista oggettivo la volontà divina respinta e quindi mandata lontana dall'uomo per 40 secoli è pronta a tornare quindi il fatto è riparato quindi si sta già in condizioni di e quindi a chi la deposit in chi la depositiamo questa divina volontà pronta a tornare a regnare in attesa che arrivi il regno effettivo che ancora non c'è non almeno in pienezza la depositiamo nella mamma mia dice Gesù perché solo la sovranata regina poteva possedere un deposito così grande e perché? ecco perché oggi è nata la creatura che più grande non si può concepire perché possedeva in sé quella stessa volontà divina in cui poteva contenere la stessa volontà divina disertata dalle creature e quindi vedete il Signore dà anche un'altra è vero che noi siamo qui in questa che è un pochino una valle di lacrime no? lo è ci sono tante tribolazioni tante croci alcune involontarie altre volontarie che il Signore ci invita a prendere ad abbracciare ci sono delle motivazioni Gesù chiude il suo discorso dicendo ma come potiamo occuparci del nostro dolore di separarci per 40 giorni quando si trattava di reintegrare di richiamare la nostra divina volontà regnare in mezzo le creature ecco perché non dobbiamo avere paura di soffrire un po' per amore del Signore perché la posta in gioco è alta le sofferenze offerte hanno sempre un valore immenso anche se noi non lo possiamo conoscere né subito e nemmeno perfettamente che ci fa nostro Signore con le nostre croci con i nostri dolori offerti ma siamo certissimi che uniti ai suoi producono un grandissimo bene e quindi non ci mettono a paura o non è che facciamo come i mondani che considerano il male assoluto ogni forma di dolore e quindi trascornano la vita cercando di scappare e di bypassare di fare lo slalom con tutte quante le forme di sofferenza e di dolore ossia di croce che compaiono nella loro esistenza non è così per noi per voi non sia così dice Gesù nel Vangelo chi vuole venire e direi di me di me e di me se stesso prende la soccorazione ogni giorno e mi segue ecco quindi oggi mentre contempliamo questa creatura che nasce contempliamo una lezione di vita che dà divina volontà assoluta e consegna assoluta di sé nelle mani dell'Altissimo qui mi torna in mente ancora dei passaggi di Maria Valtorti si mio signore si sempre si conoscerò quello che vuoi vivrò quello che vuoi soffrirò quello che vuoi l'importante è che da me ci sia sempre si e che ti sia tolto l'amaro che purtroppo genere umano a partire dal suo pregenitore ti ha detto no tanti no troppi no troppi no io capisco che noi non siamo come lei noi siamo tutti almeno per quanto mi riguarda proprio una un dolore anche anche un po' una una vergogna c'è un bellissimo canto di Mariano che dice non sono degno di te o dolce madre mia penso che chiunque lo possa e lo debba cantare anche con spirito di profonda di profonda verità quindi fermo restando le distanze incomparabili che dobbiamo sempre ricordare e mantenere la sacra scrittura dice un abisso chiama l'abisso al fragore delle tue cascate quindi l'abisso delle nostre misere e indegnità dinanzi all'abisso di santità della divina Maria e poi dinanzi all'abisso ancora più terminato e infinito insondabile che alla santità di nostro Signore Gesù Cristo termorestando tutto questo evidentemente pariamo da lei ad offrirci a soffrire qualunque cosa qualunque dolore sapendo che se è dolore divino sarà un dolore che ci rende felici ci rascia nella gioia ci mantiene nella pace anche nell'ore della passione Gesù a commento di un'ora dice se qualcuno si prende un piacere è una soddisfazione che non è mia volontà lo starà bene mentre anche quando noi ci prendiamo qualche piacere non esistono solo i dolori in questa vita sono anche delle cose belle se è un piacere disposto concesso o addirittura voluto da Dio voglio che questo mio figlio in questo momento dico questa cosa bella si prenda questo mio ti amo e anche lì arriva una montagna di cose belle così come dai dolori non è tanto importante se è una cosa bella o se è una cosa dolorosa questo è secondario la cosa importante è se è una cosa che a me capita che sto vivendo perché voluta da Dio tutto qui è il segreto poi dolorosa o lieta bella o brutta fa niente basta che sia sempre positivamente voluta e non solo permessa dalla divina volontà grazie Bene, oggi Santa Vergine Maria, Signore Gesù, vogliamo elevare un grandissimo grazie, per allegrarci con tutta la Chiesa che oggi tributi e sta in festa insieme al Paradiso per questo grande evento. Aver visto finalmente il capolavoro dell'Altissimo è stata una grande gioia per il Signore, perché non dobbiamo mai dimenticare che vedere la Madonna è stata una grandissima gioia, innanzitutto per Lui. O una sola creatura in cui ha potuto vedere intatto tutto quello di mirabile che Lui ha fatto. E noi dobbiamo ringraziare, non basterà l'eternità per ringraziare la Madonna. Le anime devote soffrono tanto perché vorrebbero essere perfette sempre, vorrebbero amare sempre il Signore, ma senza neanche essere umili, quindi soltanto un pochino realistiche. Si vedono circondate di, diceva l'offertore della Messa Antica, innumerabili bus peccatisi d'offensionibus negligenci smesi, innumerevoli. E per quanto uno si impegna e si sforza non ci può fare niente. Abbiamo questa condanna di non poter offrire al Signore la bellezza e la perfezione che si merita. Però almeno abbiamo una consolazione. Noi non ce la facciamo, non ce la possiamo fare, purtroppo. Ma a qualcuno sta soddisfazione e all'altissimo gliela ha dato. Ecco perché oggi siamo in gioia e ecco perché ringraziamo, ti ringraziamo, Signore Gesù, per questo regalo che ti sei e che ci hai fatto. E via Maria, e via l'Immacorata, e via questo giorno. Nella Divina Volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Fiat Ave Maria.